Potremmo iniziare così questo video dicendo che abbiamo visto nella stessa giornata una corsa comunque pazza ed imprevedibile, ancora di più, già di base di suo, ma oggi ancora di più, stiamo parlando della Paris-Giroubaix ma al femminile, ovviamente domani ci sarà la prova maschile, la tesissima prova maschile, mentre ultima tappa e quindi conclusione del giro dei Paesi Baschi diciamo abbastanza prevedibile nel senso che il più forte era Vingegaard, insomma doveva controllare, anzi no, attacca, insomma la miglior difesa è l'attacco, quindi ne ha di più, si vede proprio già ad occhio, e quindi se ne va, va a vincere, insomma va a prendersi da dominatore con tre tappe vinte questo giro dei Paesi Baschi, quindi stessa giornata, stesse ore di corsa perché praticamente si sono svolte di fatto in contemporanea le due corse, ma due mondi totalmente opposti. Iscrivetevi, campanella mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti sulla giornata ciclistica, anzi sulla settimana ciclistica magari, no, giro dei Paesi Baschi, il mercoledì, mercoledì appunto passato, c'è stata anche la Shell de Price, non so se si pronuncia in questo modo, però insomma vinta da Philipsen, qualche tratto di Pavè, siamo in Olanda, domani ovviamente la Paris Giroubaix, e oggi la Paris Giroubaix femminile, ovviamente gara più corta rispetto a quella maschile, 145 chilometri, ma di follia, fra cadute, tattiche un po' così, no, cioè a volte c'erano, a volte non c'erano, parte una fuga all'inizio, questa fuga poi ovviamente man mano che si va avanti con i chilometri e che aumenta insomma la pesantezza nelle gambe e la fatica si va disgregando, sgretolando, fate come volete, dite come volete, insomma, davanti nelle fuggitive abbiamo poi, insomma, coloro che compongono il podio di giornata, ovvero Alison Jackson dell'IF che si va a prendere super meritatamente questa vittoria, perché lei, insomma, è stata la fautrice di questa fuga di fatto, ecco lei che io, ok, ho visto magari gli ultimi chilometri, ma sicuramente, anche leggendo i commenti, nell'ambito proprio della fuga di giornata che, no, così, a bocce ferme dici, verranno riprese, verranno riprese nel finale, i cavalli da battaglia, insomma, si metteranno in proprio e la fuga verrà ripresa, e invece no, con le unghie e con i denti, restano lì davanti e si vanno a giocare la vittoria. E Alison Jackson è stata veramente tra le più attive, se non la più attiva, soprattutto mi ha impressionato nella parte finale quando il gruppo delle inseguitrici, fra cui anche la nostra Elisa Longoborghini, erano arrivate praticamente a 8-9 secondi, Alison Jackson e le altre anche, ci mancherebbe, ma mi ha fatto impressionare lei come si metteva a tirare lì davanti per non farsi riprendere a tutti i costi, come incitava le altre, no, a tirare, e alla fine dietro si guardano, le vai a prendere, cioè, la vai a prendere tu? O meglio, le andate a prendere voi? Le andate a prendere voi? Alla fine non ci va nessuno a prenderle, e vantaggio che oscilla fra i 10 secondi, 20 secondi, poi ritorna a 15, e quelle davanti, cioè, non verranno più riprese, non verranno più riprese. Si entra nel velodromo, Alison Jackson, uno potrà dire, ok, magari ha speso tanto, non vincerà lei, sarà anche una mezza beffa, e invece no, il karma, il destino, chiamatelo come volete, ha voluto che la portassi a casa lei, questa Paris Giroubaix, e sono contentissimo, contentissimo, ovviamente, contentissima lei, ma, cioè, contentissima di tutti, anche dei rispettatori, penso, perché, se hai visto la gara, comunque sai il lavoro che ha svolto, e sai che se la merita fortemente. Katia Ragusa, seconda posizione, se le avessero detto, cioè, insomma, che avrebbe conquistato un secondo posto alla Paris Giroubaix, in una gara pazza, no, in cui sono state cadute, ad un certo punto, vedremo anche cosa è successo, ma chi ha visto la gara lo sa, ovviamente, è stato uno dei momenti clou di questa classica, di oggi, cioè, se le avessero detto, al mattino, prima della partenza, otterrai un secondo posto oggi alla Paris Giroubaix, penso, si sarebbe messa a ridere, e poi avrebbe firmato con il sangue, quindi, seconda posizione, risultato migliore della sua carriera, anche se, ovviamente, è una ragazza giovane, 25 anni, se non erro, a maggio 26, insomma, però, grande gara, rimane lì davanti, nel finale salta qualche cambio, non ne ha più, oppure sta facendo un pochino di tattica anche lei, comunque, rimane attaccata, si entra nel velodromo, è in terza posizione, quindi anche in una posizione buona, magari le è mancato, o non ha proprio lei per caratteristiche, non lo so, quello spunto veloce, c'è stato un momento, proprio nello sprint, in curva, in cui, magari, se fosse andata subito all'esterno, avrebbe potuto fare qualcosina di più, ma, veramente, cioè, non voglio dire assolutamente nulla riguardo ciò, perché, comunque, è un secondo posto stupendo, certo, poi ti trovi lì, la lucidità, no, non è nemmeno delle migliori, perché, dopo tutti quei chilometri, dopo tutta quella fatica, insomma, quindi, è facile anche giudicare la casa, quindi, secondo posto, stupendo, e in terza posizione, non mi ricordo chi, tra l'altro, una delle fuggitive è caduta proprio all'ultimo, una delle SD Works, tra l'altro, quindi, una compagna di lotte e copechi, terza, Marte Trujen, belga, quarta, Duval, quinta, Borrat, sesta, Marta Lac, polacca, e, a 12 secondi, il gruppo delle sconfitte viene regolato, appunto, da lotte e copechi, cioè, se fossero arrivate queste, penso, avrebbe potuto vincere, avrebbe potuto fare una grandissima doppietta, no, Giro delle Fiande, una settimana fa, e Paris-Giroubaix, oggi. Chiara Consonni, comunque, nona, Marian Vos decima, e, anche qui, Marian Vos, ad un certo punto, era staccata, ma, veramente, staccata, alla fine, per come si è messa la gara, la caduta lì davanti, insomma, delle altre, dall'altro, innescata dalla nostra, Elisa Longoborghini, poi rientra, quindi, alla fine, decima posizione, per come era Marian Vos, o meglio, per dove era Marian Vos, ad un certo punto, direi, un buon risultato. Ecco, per quanto riguarda le cadute, che dire, ad un certo punto, sparpagliò più totale, davanti avevamo un, l'olandese, Engeweld, se non vado errato, potrei aver detto anche una stupitaggine, insomma, però, insomma, Engeweld, dietro il gruppetto delle inseguitrici, a più o meno un minuto, ad un certo punto, oddio, però forse la Engeweld era già stata ripresa, vabbè, insomma, avevamo la fuga davanti, dietro il gruppetto con la Longoborghini, che lo stava tirando in quel momento, ad un minuto, slittata di Longoborghini sul pavè, cade, per fortuna che non le sono andate addosso, che è caduta un pochino lateralmente, però dietro si sono fatte anche abbastanza male, dobbiamo dire, insomma, quindi, ovviamente, caduta in scala dalla Longoborghini, ma in una gara così, con quelle condizioni meteo, anche perché, gara bagnata, chiamiamola in questo modo, cioè, andateci voi, insomma, a competere su quel terreno, su quei siampietrini, distanti l'uno dall'altro, no? Anche un centimetro, due centimetri, uno ad un livello, un altro ad un livello più basso, più alto, insomma, devi sapere dove metti le ruote, attentamente. Infatti, si cerca sempre di passare sulle cunette laterali, magari, però, anche oggi lì, insomma, era un po' un campo minato, perché con quelle pozze d'acqua, la fanghia, magari, che ti fa slittare la ruota, insomma, tante variabili. Quindi, una gara pazza, veramente, cioè, chi la vince, insomma, sopravvissuta, cioè, superstite, e quindi, complimenti a tutte, comunque, complimentissimi a tutte. Elisa Longoborghini, alla fine, termina in ventesima posizione, tra l'altro, quindi, comunque, l'anno scorso ha vinto, vinse la valigia Roubaix, quindi, anche lì, presentarsi alla Roubaix con il numero uno, no? Con il numeretto, numero uno, non è male, certamente una bella sensazione, e quindi questo, complimentissimi a Ellison Jackson, e anche a Katia Ragusa, ovviamente. Per quanto riguarda, invece, il Giro dei Paesi Baschi, sei tappe, da lunedì al sabato, prima tappa, vinta da Wiengegaard. E iniziamo subito, no? Con il pietre giusto, per quanto riguarda il danese. Tra l'altro, il danese è il primo danese a vincere il Giro dei Paesi Baschi, tra l'altro. Solo un altro danese, nel 93, era arrivato secondo. Quindi, no, scusate, non prima tappa vinta da Wiengegaard, infatti, mi sembrava ci fosse qualcosa di sbagliato, però vabbè, prima tappa vinta da Ethan Hater, con secondo Mauro Schmid, della Quickstep, che comunque si comporta bene in questo Giro dei Paesi Baschi. Seconda tappa, vinta da Schelling, con secondo Matteo Sobrero. Matteo Sobrero, che per buona parte di questa gara, insomma, di questa corsa, è stato comunque lì nelle prime posizioni di classifica. Terza tappa, vinta da Wiengegaard. Il primo arrivo, diciamo così, abbastanza duro, su uno strappo veramente duro, e vince Wiengegaard. E quindi, già lì, insomma, si capisce un po' l'antifona. Quarta tappa, vinta da Wiengegaard, quindi due tappe in due giorni. Ieri, quinta tappa, vinta da Sergio Eguita, con secondo Andrea Baggioli, quindi altro piazzamento italiano. E oggi, ultima e decisiva tappa, quella praticamente con... cioè, in cui non c'è stato, no? Quasi un metro di pianura, ovviamente, sto esagerando, però, insomma, tanta salita e discesa. Siamo nei dintorni di Eibar, vabbè, proprio la conformazione dei Paesi Baschi, che è così, e mi piace, insomma, questo giro, e sapere, insomma, che c'è poca pianura, no? Quindi, un bel giro dei Paesi Baschi, ecco. E, ultima tappa oggi, cosa c'è da dire? Rimangono lì i soliti noti, Wiengegaard, Landa, soprattutto, che comunque mi ha fatto una buona impressione in questa settimana, però Wiengegaard è il più forte, con la squadra, in generale, più forte. Non so se è la più forte di questo giro, ma forse, anche in questo caso, insomma, la più forte. E quindi, cioè, non c'è Pogacar, c'è Wiengegaard. Non c'è Pogacar, c'è Roglic. Non c'è Roglic, c'è Pogacar. Insomma, non c'è uno, ce n'è un altro. E quindi, anche per gli altri, no? Che sono comunque degli ottimi, dei buoni corridori, è difficile competere, poi, ad un certo punto. E quindi, grande comunque, grande Wiengegaard, che lì su una salita, sulla penultima salita, sì, perché l'ultima, poi, 5 km, al 5%, di fatto, cioè, non è nemmeno una salita, stacca tutti, ma di passo, senza alzarsi sui pedali, e se ne va, se ne va alla grandissima, raggiunge anche un minuto e venti di vantaggio, poi ovviamente molla un pochettino, manda baci alla telecamera nel finale, arriverà con una cinquantina di secondi di vantaggio, e vi vado a leggere, sia l'ordinario di arrivo, con Wiengegaard, primo, James Knox, della Sudark Quickstep, in seconda posizione, terzo, Isagirre, quarto, McNulty, quinto, Higuita, Higuita, sesto, Godou, settimo, Schmid, ottavo, Yates, Simon Yates, nono, Mass, decimo, Felix Gall, e undicesimo, Michelanda, e subito dopo, Esteban Chaves e Attila Walter. Esteban Chaves, comunque, oggi attivo, insomma, si è voluto far vedere, quindi non mi è dispiaciuto. Per quanto riguarda la classifica generale, ecco che Wiengegaard, che vince con un minuto e dodici su Michelanda, terzo, Yoni Isagirre, un minuto e ventinove, che frega il podio a David Godou, che è stato un po' pollo, sinceramente, proprio all'ultima tappa, fregato questo podio, Godou, quarto, a uno e trentuno, quindi per due secondi, non sale sul palco del podio, quinto, Mass, sesto, Higuita, settimo, McNulty, ottavo, Nox, appunto, nono, Yates, decimo, Felix Gall, a uno e cinquanta. Quindi, questo è, ragazzi, complimenti a Wiengegaard, insomma, mattatore di questo giro dei Paesi Baschi, e, che dire, iscrivetevi, campanella mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti, al prossimo video.